Non me ne avete lasciato di anche un pezzetto, l'avete sciolto nell'acido. Poesie, canzoni e riflessioni. Donne, uomini e giovani studenti ieri mattina in piazza Santuario a San Vitolo Capo hanno dato vita alla manifestazione Non Una Di Meno, realizzata in occasione della giornata internazionale per l'eliminazione della violenza sulle gomme. L'iniziativa è stata promossa dall'amministrazione comunale di concerto con la presidenza del Consiglio e l'assessorato delle politiche sociali del Comune. Presenti il sindaco Giuseppe Peraino, rappresentanti della Giunta e del Consiglio, dell'associazionismo ed insegnanti. Al centro della piazza una sedia attorno alla quale sono stati depositati dei drappi e delle scarpe rosse, simbolo della lotta contro il femminicidio e la violenza di genere. Non solo parole, ma azioni concrete per prevenire e contrastare il fenomeno, ha sottolineato il primo cittadino, che ha ricordato come l'attività di sensibilizzazione venga svolta quotidianamente attraverso la collaborazione con soggetti e associazioni e in sinergia con la scuola, che riveste un ruolo sociale, culturale fondamentale. A conclusione della manifestazione, le allieve della scuola elementare hanno donato ai loro compagni dei palloncini in segno di amicizia, collaborazione e reciproco rispetto. Grazie a tutti.